Per favore che si chiara lì e sopra, mi si sente solo a voi, eh, state facendo... Facete, facete assoluta, basta ragazzi, arrivate volte che mi scempi il niente, eh, non mi ci prego scherzata. Sì, è veramente un'amore. Sì, non c'è la mia. 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 E il finale, è un film di ragazzate. E non c'è la mia. Vieni a tutti i 300 euro. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti